Ciao amici di Cola Zampa, oggi è l'ultima puntata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe e oggi sono qui con Ulisse, questo meraviglioso cucciolone che cerca casa io vi lascio con una carrellata dai momenti più belli che abbiamo trascorso qui di tutte le adozioni che sono state fatte, di tutti i cuccioli che hanno trovato una casa e una famiglia spero di rivedervi presto, voi comunque potete continuare a collegarvi alla pagina facebook del Dog Village per vedere tutte le novità, tutti i cagnolini e i gattini che cercano una casa vi lascio spero alla prossima stagione e mi raccomando continuate a seguire la pagina del Dog Village noi siamo una struttura di passaggio, qui gli animali passano per essere curati, microcippati, sterilizzati e castrati e poi trovano finalmente una famiglia, una casa calorosa che li accoglie Quala Zampa per me è stata la prima esperienza, un'esperienza nuova che mi ha fatto conoscere la realtà dei canili per questo motivo voglio ringraziare, visto che siamo arrivati all'ultima puntata di Quala Zampa innanzitutto la responsabile del Dog Village, la Nuccia Mangiavillano per la sua disponibilità e poi ancora il dottore Massimiliano Messina per i consigli utili che ci ha dato riguardo ai nostri amici a quattro zampe e poi tutte le volontarie che lavorano sia qui dentro che fuori dal Dog Village come Natascia, Michelle, le volontarie dell'OIPA e poi Erika e Lisa che lavorano qui e soprattutto il mio cameraman William che mi ha sopportato e supportato in questa nuova esperienza e quindi grazie a tutti per la collaborazione, è stata davvero un'esperienza fantastica Ci sono tantissimi cani che ancora non trovano casa e quindi vi chiediamo di condividere le nostre foto non soltanto mettere mi piace o dei cuori ma condividere perché è l'unico modo per avere visualizzazioni e poter dare una speranza a loro per cercare una casa Grazie mille Massimiliano, vuoi lanciare un messaggio ai nostri telespettatori riguardo al maltrattamento sugli animali? Sì, allora il messaggio è quello che ogni qualvolta si vede maltrattare un animale chiamare subito la polizia e le forze dell'ordine per intervenire E ricordatevi amici di Quella Zampa che ci sono ancora tanti cani e tanti gatti che aspettano una famiglia mi raccomando, adottate, adottate, adottate Due volontarie dell'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali che ci racconteranno come funziona il loro lavoro No Ok Troppi cani e gatti abbandonati Troppi cani e gatti abbandonati troppe persone senza scrupoli che ogni giorno si disfano di questi piccoletti come se fossero spazzatura Gli otiti, intanto ciao 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 Allora, per quanto riguarda le otiti cioè, facciamo 200.000 puntate e oggi ti dico ciao No, basta, non ciò che dico ciao Ben trovata al dottore Massimiliano Si Cominciava a fare tutto Le otiti sono fastidiose Diciamo, si presentano nella stessa maniera a prescindere dall'agente zoologico Sì, la sintomatologia è sempre la stessa cioè nel senso che sono fastidiosi il cane incomincia ad avere dolore all'orecchio incomincia a scuotere la testa comincia ad raschiarsi anche nei muri e alle volte possono provocare talmente tanto dolore che anche urla e le guaiscono e per quanto riguarda le otiti per trattarli a f*** fammai a f*** i cani che urla si può tagliare questa parte anche qui i cani che No, no, no.